Il 20 luglio scorso l'Assemblea regionale siciliana ha bocciato i decreti legge che dovevano formalizzare il passaggio territoriale delle città di Gela, Niscemi e Piazza Almerina alla città metropolitana di Catania. Ciò significa che la regione non ha approvato i nuovi confini dell'ente intermedio catanese nel quale dovevano rientrare queste tre città e così per un capriccio del nostro Parlamento regionale Gela è rimasta annessa al Consorzio Nizeno. Il comitato Gelensis Populus dal giorno della bocciatura aveva ricevuto rassicurazioni dal sindaco Domenico Messinese che entro il termine di 60 giorni sarebbe intervenuto presentando un apposito ricorso al TAR. Per solicitare il primo cittadino i componenti del comitato avevano avviato sui social e non solo il ricorso countdown, conteggio oramai giunto miseramente al suo termine. A seguito di questa iniziativa il sindaco e la soggiunta, dice il portavoce Liliana Bellardita, sono corsi ai ripari annunciando tramite un soggetto non istituzionale di avere provveduto ad incaricare l'avvocato Gaetano Armao per presentare un ricorso. Ricorso che si presume debba avere come oggetto l'impugnazione dell'indizione delle elezioni per la città metropolitana di Catania nel tentativo di bloccare le elezioni metropolitane del nuovo ente etneo. Gelensis Populus sottolinea che il sindaco di Catania Enzo Bianco è colui il quale ha appena annunciato trionfalisticamente il pronto ingresso delle tre città del gelese dentro il nuovo ente territoriale etneo ed è lo stesso che veniva diffidato dai soliti soggetti ufficiali ma non istituzionali a non indire le elezioni di secondo livello e che ha invece cinicamente indetto le elezioni della città metropolitana di Catania per il prossimo 20 novembre. Alla luce di tutto ciò, continua il Comitato, a partire da oggi, rimanendo un mese per poter tentare di bloccare le elezioni già stabilite, faremo ripartire un nuovo countdown, l'Election Day Countdown. Il ricorso a questo punto da presentare contro Bianco, compagno di foto e risate, che è colui che ha indetto le elezioni nel rispetto della legge 15 del 2015 deve superare lo scoglio dell'ammissibilità. Considerato, continua una nota, che Domenico Messinese sembra non volere più ascoltare i cittadini e tra essi anche noi cittadini di Gerensis, chiudendo qualunque canale di interlocuzione da noi tentato fino all'ultimo, per provare a risolvere questa ingarbugliatissima vicenda dei libri consorsi, ci sembra opportuno metterci nella posizione di spettatori per guardare l'operato improvvisato dal sindaco e dal suo assessore Francesco Salinito, unitamente ai loro alti consigliori, augurandoci che non compiano passi falsi a danno dei cittadini e contribuenti gelesi. Noi di Gelenzi, si chiude la nota, continueremo a vigilare sulla vicenda, informando la città e denunciando le cose poco chiare e trasparenti, operando autonomamente e gratuitamente per gli interessi del nostro territorio, come sempre fatto.